Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa, gli satelliti ci mostra un po' di nuvolosità regolare sulla nostra regione, ancora il mare è il grande protagonista meteo di queste ore. Per oggi, venerdì 30 giugno, nubi irregolari con ampie schiarite alternate a densamenti, soprattutto a ridosso dei rilievi di centro levante, localmente associati a qualche piovasco rovescio. Dal pomeriggio, generale aumento della nuvolosità medio-alta più compatta levante e in serata, non si escludono isolati rovescio temporali più probabili sui rilievi, venti in prevalenza forti rafficati dai quadranti meridionali in aumento a burrasca nel pomeriggio, mare molto mosso, poi nuovo aumento ad agitato dal pomeriggio sera con mareggiate anche intense sulle coste esposte al libeccio, temperature massime stazionarie. Domani sabato, primo luglio, circolazione di aria fresca e instabile in quota determina condizioni di variabilità con alternanza di ampie schiarite addensamenti anche consistenti associati a brevi rovescio temporali più probabili sui rilievi, ma impossibile locale estensione alla costa, venti moderati localmente forti meridionali in progressiva attenuazione della serata e rotazione da nord-est a ponente, mare molto mosso localmente agitato con residue mareggiate levante, temperature minime e massime stazionari. Chiudiamo con domenica 2 luglio, una progressiva rimonta dell'alta pressione riporta condizioni in prevalenza soleggiate su tutta la Liguria, residui addensamenti nelle prime ore levante, tuttavia una residua instabilità pomeridiana potrà determinare qualche rovescio temporale sui rilievi in particolare di centro levante in locale estensione alla costa, venti deboli o moderati settentrionali al mattino in rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio a ponente, da ovest nord-ovest a levante, mare mosso a ponente, molto mosso levante in graduale calo fino a poco mosso, temperature minime stazionarie, temperature massime in aumento è tutto, seguite gli aggiornamenti su www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpal a risentirci.